Buongiorno Milano dall'arcipelago delle Egadi e non potevamo che darvi questo benvenuto con un calorosissimo clima nel vero senso della parola. Oltre alla platea ricchissima, allegra e vivace, anche un clima prettamente estivo accompagnerà questa diretta alla scoperta delle meraviglie di questo territorio. Noi ci troviamo a Piazza Umberto nell'isola di Marettimo. Abbiamo scelta la più antica e la più lontana delle isole Egadi per raccontarvi quello che questo territorio offre. Un'isola meravigliosa, incontaminata con una natura davvero spettacolare. Sono tante le attività che i visitatori possono venire a fare qui a Marettimo per passare le loro vacanze o per respirare un po' di aria purita. Io immagino che in questo momento Milano è totalmente presa dal caos, noi qui invece siamo totalmente nella pace, quindi vogliamo fare anche un po' invidia. Andremo alla scoperta di questo territorio delle Egadi attraverso i racconti di chi vive queste isole 365 giorni l'anno. E accanto a me nel corso di questa diretta non poteva che esserci Vito Vaccaro che è presidente dell'Associazione Marettimo e possiamo dire davvero colui il quale si è speso per questo territorio in passato da giovane. Adesso hai la barba bianca, i capelli anche un po' bianchi, però insomma ha vinto davvero un'istituzione e ha fatto tanto per promuovere un'isola davvero di una bellezza incontaminata. Grazie innanzitutto, ma soprattutto vada rimarcato che oggi l'isola di Marettimo è rappresentata con tutte le sue, fra virgolette, istituzioni, che è la gente del posto, i pescatori, chi vive l'isola, come dicevi tu, 365 giorni l'anno. Ci sono le donne, fra poco ci saranno anche i bambini della scuola, per cui è importante far capire che quest'isola vuole vivere non soltanto in funzione del turismo, cioè non soltanto nel periodo estivo, ma tutto l'anno. È un'isola veramente con il clima favorevole e anche le condizioni atmosferiche più impervie la rendono affascinante, selvaggia e bella. Per cui è questo che vogliamo promuovere dal centro del Mediterraneo, le isole Egadi, ma Marettimo in particolare la più isola, come qualcuno l'ha definita. Ecco, la più isola, perché dicevo, è proprio la più distante, per cui anche a che fare un po' con le avversità, ma qui la gente vive proprio 365 giorni l'anno qui senza scoraggiarsi, dedicandosi principalmente all'attività della pesca, ma non soltanto. Noi adesso andremo piano piano a scoprire, senza anticipare troppo, così per tenervi un po' sulle spine, tutta la ricchezza che questo territorio offre e io in questo mio blitz a Marettimo ho intercettato un testimonial d'eccezione. L'ho così un po' preso dalla sua vacanza, l'ho un po' interrotto. Patrizio Roversi, benvenuto, ha raccontato le meraviglie dell'Italia in lungo e largo e ora insomma è un piacere averti anche qua e beccarti proprio per questa diretta a Marettimo, isola che tu ami. Ma della mia barba bianca e capelli bianchi non dici niente, perché se sono bianchi quelli di Vito, vabbè. No, io sono qua nei dintorni per fare appunto una puntata di Linea Verde. La concorrenza. Ma che concorrenza, figurati qua, bisogna parlare di questi territori, va bene tutto e vanno bene tutti. E ho fatto un passaggio qua bellissimo, Marettimo è stupendo. Prima l'isola più isola, ma certo, ma è importante perché, allora adesso poi parlerete di ricette locali. Io le ricette locali le conosco perché le assaggiate, ma non le saprei rifare. Ma la ricetta di Marettimo è interessantissima. Allora innanzitutto, me lo spiegava ieri il mio amico Giovanni con il quale ho rifatto il giro dell'isola, è un'isola lontana e quindi da un punto di vista proprio delle specie vegetali, endemiche, ne ha alcune particolarissime. E questo è importante. E dopodiché la storia che ha qui, romani e cartaginesi se ne sono date di santa ragione già ai tempi, ma vuole dire che ci sono passati tutti di qua. E poi una comunità di alcune centinaia di persone qui e di alcune migliaia in California. Una storia, insomma, anche di sofferenza, ma una comunità che è rimasta coesa, no? E quindi Marettimo è un microcosmo estremamente interessante. Anche la geologia l'ha aiutata perché è una specie di, è come se una delle tofane dolomitiche fosse spuntata da queste parti. Quindi qua vedi degli scalatori, degli alpinisti, dicono ma cosa ci fate? Siamo al mare, però mare, montagna, c'è qualunque cosa. Le grotte sono una cosa da perderci la testa. Insomma, dai, è estremamente interessante. Adesso poi, ma poi te lo dirà Vito, hanno intenzione anche di rilanciare l'agricoltura perché le attività devono essere polivalenti, il turismo non può essere l'unica, no? Perché l'identità dell'isola gira anche attraverso i suoi prodotti e le sue ricette. Insomma, Patrice, faremo del nostro meglio per rendere le meraviglie che questo territorio offre e approfittando di questa grande vetrina di Expo 2015. Dai, tu che sei un esperto, proviamo a fare un invito ai visitatori per, ecco, attrarli in quest'isola. Guarda che non è nemmeno scherzo. Allora, un sacco di gente deve venire all'Expo a Milano, ma qual è il problema dell'Italia? Di portarli in giro per l'Italia. Non possono fermarsi all'Expo a Milano, anche perché Milano non li tiene tutti. Beh, dal punto di vista delle infrastrutture, non si è mica messi male qua, eh. Qui si arriva velocemente e questo è molto interessante. Siete ben collegati e questo rende l'isola, diciamo così, raggiungibile, raggiungibile anche se, come dire, lontana. È bello perché hai i pregi di entrambe le situazioni. Quindi io mi auguro che i visitatori che vengono dall'estero siano portati a decentrarsi in tutta Italia, anche qua che sembriamo più lontani, ma non è vero perché ormai le distanze, le misure in base alle linee aeree, in base agli aliscafi, in base ai trasporti, non in base alla distanza chilometrica. E se lo dice un viaggiatore d'eccellenza non possiamo che crederci. Diciamo turista, va. Patrizio, io ti ringrazio per aver regalato questi minuti preziosi della tua vacanza. Adesso torna al lavoro, mi raccomando, parla bene di queste isole meravigliose. Ben ci mancherebbe, grazie, ciao, ciao. E noi invece torniamo ancora da Vito Vaccaro e andiamo ad entrarci un po' in quello che è la vita di questa isola meravigliosa, l'isola di Marettimo. Come diceva Patrizio Roversi, è veramente di una particolarità incredibile, una sorta di catena montuosa che si alza fino a 700 metri dal livello del mare e che offre poi un panorama meraviglioso dei luoghi di mare incantevoli ed è proprio la pesca una delle attività principali di quest'isola. Lì si concentrano storie e tradizioni e forse anche impiega la maggior parte del tempo di chi risiede in questo posto. Sicuramente il valore aggiunto proprio di quest'isola, un'isola di mare e di montagna e poi lo vedremo, è quella di essere un'isola di pescatori fin dall'antichità. Quest'arte del pescare che noi sempre vogliamo enunciare, vogliamo rimarcare, è ancora viva perché i pescatori ancora ci sono, è stata esportata, come si diceva prima, anche all'estero, i pescatori di Marettimo, oltre a pescare nelle coste dell'Africa, del Nord Africa, con la mitica pesca delle spugne, andata in Portogallo, fino alle acque della California e a pescare in Alaska il salmone. In California c'è una comunità di pescatori, una comunità di isolani, maggiore, numerica, più di quella che vive tutto l'anno a Marettimo. E dei contatti ancora forti e ancora vivi, perché questi pescatori che ancora hanno forte la propria identità verso l'isola di appartenenza, che continuano ad essere pescatori oltreoceano, li vediamo in California a mantenere le tradizioni, la festa di San Giuseppe, l'alimentazione, preparano i piatti così come le antiche ricette che si facevano sull'isola. E il pescatore lo vediamo la mattina ancora tirare le reti e portare il pescato nei due porticcioli dell'isola. È vita vissuta, è la normalità di quest'isola quotidiana. Tutto l'anno si vedono i pescatori nella propria attività. E questo valore aggiunto di quest'isola va rimarcato, perché è importante tenerla ancora in vita. Poi noi apprezziamo la sintesi di tutto quello che Vito ha detto a tavola alle nostre spalle. Ho detto non vi svegliamo tutto subito, perché poi andremo a conoscere le prelibatezze culinarie e gastronomiche di questo territorio. Da cucina dell'Ega di Fantastica, vi ho promesso che il racconto non lo faccio io, ma lo faranno i protagonisti della vita isolana. Io sono con Pippo, che il pescatore per eccellenza è già abbronzato. Gode di ottima salute, perché i pescatori di Marettimo sono sani, belli, buoni e forti. Sì, ma facendo il pescatore a Marettimo, se non sei in buona salute non lo puoi fare. Perché? Perché non abbiamo un porticciolo sicuro. Quindi? Dormi quando non hai sonno e mangi quando non hai fame. Allora, dormi quando non hai sonno e mangi... perché? Perché giustamente... E arriva in maestrale e si piglia la barca sul lato maestro. E loro corrono. Ecco, esatto. Qua si dorme poco facendo il pescatore. Allora la salute deve essere buona. Però il suo racconto è col sorriso sulle labbra, perché chiaramente è un'attività che si ama. Sì, si ama, però è una categoria che viene a perdere. Noi a Marettimo ancora, chi solo sa fare, facendo il pescatore, con un po' di pesca e un po' di turismo, si tira avanti. Facendo solo il pescatore non ce la farà uno. Forza ragazzi, voi portate avanti anche le tradizioni. Le tradizioni nostre sono. Io, c'è mio figlio che mi ha, dice, ha continuato a fare il pescatore, è il più giovane pescatore che c'è nell'isola. Bene. Ma ci abbiamo anche il più anziano che salutiamo, lo zio Peppe. Lo zio Peppe. 95 anni, pensate un po', è in mezzo al pubblico, ecco Vito lo sta chiamando, veramente lo accogliamo per un saluto. È una persona che ha vissuto intensamente la vita di quest'isola, di questo territorio. Un saluto veloce, quanti anni ha? Quanti anni ha? 91, 91. 91 anni. Zio Peppe veramente ha passato tutte le sfaccettature, scusate, tutte le sfaccettature di quest'isola. Poi a un certo punto è dovuto andare lontano per le difficoltà lavorative. Se ti racconto tutto, la vita mia, scopriamo un cao. Beh, però voglio dire, arrivare a 95 anni è già un traguardo, complimenti davvero e buona vita, insomma. Vedete, la vita sull'isola, insomma, è importante e vi rende forti. Pippo, io ti ringrazio per questo tuo intervento. Poi è interessante andare a scoprire quello che è il rapporto dei pescatori con il tempo, con il mare e con la natura. Avremo modo di farlo nelle prossime dirette, ecco, ci collegheremo a distanza di qualche minuto. Intanto la linea torna a Milano per approfondire un tema proprio a proposito di pesca, che è tipicamente caratteristico delle isole Egadi. Grazie. 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 Grazie.